Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Dopo l'attacco dell'opposizione per la perdita dei residenti nel comune di Teramo, risponde l'assessore De Sanctis con i dati che certificano come il saldo dei nuovi residenti e chi si trasferisce in altri comuni sia sempre positivo. Segno sottolinea che la rinascita della città è in atto. I dati che sono stati dati dall'opposizione sono frutto di una errata lettura del totale dei residenti perché se andiamo a vedere tutti gli elementi che formano quel numero vediamo come in realtà l'unico trend negativo che abbiamo in comune di Teramo così come in provincia, in regione e in tutta Italia è l'effetto di natalità. È chiaro che meno nascono i bambini, più ci sono i decessi perché quello è l'altro trend purtroppo positivo che se andiamo a comparare i numeri sono almeno tre volte, cioè i decessi sono almeno tre volte superiori alle nascite si capisce come si arriva a una diminuzione del numero di abitanti tant'è che se vediamo l'elemento residenti, residenze nuove notiamo un trend positivo come c'è un trend negativo nelle immigrazioni in altri comuni. Purtroppo se le famiglie fanno meno fili non dipende dall'amministratore locale o dal presidente del consiglio e purtroppo sono meno nascite, io non ho una bacchetta magica per far nascere più bambini, purtroppo è quello. Un dato incentrato sulla bassa natalità e non sull'attrattività della città che come sottolinea l'assessore De Sanctis è diventata di interesse non solo per i tanti turisti ma anche per le persone che ci vivono. I servizi dati dalla città di Teramo sono tanti e soprattutto tutti rivolti alla famiglia oltre a tutto quello che sta sotto gli occhi di tutti quanti, tipo il castello, cioè l'attrattività della città stessa abbiamo un numero elevatissimo di turisti, negli ultimi tre anni c'è stato un numero elevatissimo di turisti questo che significa? Significa che comunque Teramo è una città attrattiva in ogni sua parte.